Ciao a tutti, io sono Andrea e questo è il primo video della mia guida a E-Better Root Planner. Questo sito è utilissimo per la programmazione dei viaggi con un'auto elettrica perché non solo permette di, come tutti i navigatori, di trovare il tragitto migliore per raggiungere la destinazione, ma permette anche di calcolare l'energia necessaria per raggiungere appunto la destinazione e soprattutto, se l'energia non fosse sufficiente, ci permette di programmare in modo automatico le soste, quindi nel modo ottimale ridurre il numero di soste per poter raggiungere la destinazione nel minor tempo possibile. Il sito è raggiungibile all'indirizzo ebetrouteplanner.com e si presenta con questa pagina iniziale dove vengono indicate le caratteristiche principali, quindi la programmazione e anche la navigazione durante appunto il tragitto. Sono presenti anche i link all'applicazione per iOS e Android che replica quasi tutte le funzionalità dell'applicazione web. In fondo sono presenti anche i pulsanti per poter donare, per fare delle donazioni agli sviluppatori, ai manutenitori di questo servizio in modo anche per ringraziare questo lavoro che è comunque utilissimo e totalmente gratuito. Il candale esterno, dopo aver consentito a riconoscere la nostra posizione, ci viene posta una domanda qual è la nostra automobile. Io adesso vado a selezionare quello che è il modello della mia auto ma sono presenti sostanzialmente tutti i modelli prodotti, alcuni con dati di consumo più precisi altri con dati stimati. In ogni caso dopo aver selezionato il modello della mia auto andiamo a solamente verificare, impostare questo valore di default. Questo è un consumo di riferimento della nostra automobile. Per il momento lasciamo questo valore come impostato e andiamo a programmare un tragitto di esempio. Oggi appunto andiamo a vedere il tragitto che io percorrerò molto probabilmente l'8 di marzo per raggiungere la parata elettrica che si terrà a Reggio Emilia. Quindi inserisco la località di partenza, la città dove vivo e poi mettiamo là il punto di arrivo, cioè Reggio Emilia. Clicchiamo semplicemente su plan route e il sito adesso sta calcolando se per completare il tragitto è sufficiente una carica. Come vedete in rosso c'è la prima tratta che io dovrò percorrere quasi tutta l'autostrada ovviamente fino ad arrivare a un primo punto di ricarica che si troverà in questa posizione. Cliccando sul link io posso vedere quelli che sono i dettagli di questa colonnina di ricarica che ha una spinaccia demo con potenza fino a 50 kW, l'indirizzo e in questo piccolo fumetto mi dirà che io dovrò fare una ricarica di 10 minuti che mi porterà la quantità di batteria dal 12 al 41% per poi poter proseguire nell'ultimo tratto che in questa volta è colorato di blu per arrivare a destinazione. Cliccando qua in alto posso avere un riepilogo di quello che è il tragitto. Io partirò da massa con il 90% di carica come dicevo questi sono parametri configurabili anche per il momento lasciamo impostative fuori. Partirò con il 90% di carica e dopo due ore di viaggio arriverò alla prima colonnina di ricarica con una carica a residuo del 12%. Dopo una ricarica di 10 minuti che mi porterà la batteria al 41% potrò ripartire per l'ultimo 32 minuti di viaggio e arrivare quindi a destinazione con il 10% di carica a residuo. Attenzione mi dice il sito che io il primo tratto dovrò percorrere al massimo 70 km all'ora per poter raggiungere questa colonnina. In fondo possiamo vedere un riepilogo la durata del viaggio sarà di 2 ore e 51 minuti per una distanza complessiva di 170 km di questi 2 ore e 51 2 ore e 41 saranno di viaggio effettivo mentre solo 10 minuti di ricarica e questo è il consumo medio calcolato che è influenzato chiaramente dalle prestazioni dell'automobile ma anche dall'altimetria del viaggio. Questo è un percorso standard con tutti i parametri impostati di default. Nei prossimi video vedremo come ottimizzare questo viaggio come impostare i vari parametri che ci possono permettere di personalizzare secondo quelle che sono anche le nostre abitudini e poter anche ridurre anche notevolmente quello che è il tempo di viaggio. Per oggi è tutto, alla prossima!